Buongiorno, benvenuti. In questo video parleremo delle griglie di osservazione, dato che me le avete chieste. Io ho già inserito le griglie di valutazione, adesso andremo a trattare le griglie di osservazione. Allora, bisogna fare una premessa che per le griglie di osservazione solitamente si tiene conto dell'ICF. Allora, facciamo una breve introduzione al mondo dell'ICF che probabilmente già conoscerete. Allora, per quanto riguarda la classificazione internazionale della disabilità e della salute, quindi in inglese viene detto International Classification of Functioning Disability in Health e viene utilizzato l'acronico ICF. È un sistema di classificazione della disabilità che viene sviluppato dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. In particolare, l'ICF è una delle tre classificazioni di riferimento dell'OMS, perché poi vi è anche la classificazione internazionale statistica delle malattie e dei problemi sanitari, quindi l'ICD, quindi vi è l'ICF. L'ICD, mi sembra che sull'ICF vi ho già fatto una diretta. Se poi vi dovesse servire qualcos'altro, me lo dite. E poi, punto 3, c'è la classificazione internazionale degli interventi sanitari. I-C-H-I. Benissimo. Allora, fatta questa premessa, le griglie di osservazione in realtà vengono in un qualche modo riprese dall'ICF. E faremo adesso degli esempi. Allora, è possibile, ad esempio, inserire le funzioni globali dello studente, indicare lo sviluppo presente, e lo sviluppo futuro. Si può indicare con una, con un numero da 0, in questo caso a 5, con un altro numero che verrà sbarrato da 0 a 5, e all'interno di questa colonna ci saranno poi le varie voci relative alle funzioni mentali in questo caso parliamo di funzioni mentali globali, come ad esempio continuità della coscienza, orientamento nello spazio e nel tempo, quindi vi sono due griglie di osservazioni che indicano lo sviluppo presente e lo sviluppo futuro e quindi vengono indicati i livelli di competenza presenti per ciascun costrutto e la possibile evoluzione nel futuro. Altre griglie di osservazioni possono, di osservazioni, possono indicare altri altri elementi, ad esempio relativamente alle attività personali che possono essere quindi relative all'apprendimento, al pensare, a risolvere problemi, esistono griglie del tipo capacità performance e facilitatori. anche qui ci possono essere dei tabelle con dei numeri da 0 a 10 o da 0 a 5 per ogni voce abbiamo detto da 0 a 5 da 0 a 5 ad esempio le aree relative alle attività personali potrebbero essere il guardare il guardare quindi utilizzare intenzionalmente il senso della vista per sperimentare stimoli visivi oppure l'ascolto ascoltare ovviamente ovviamente ognuna di esse sarà valutata secondo le capacità le performance dei facilitatori l'ascoltare ad esempio per ascoltare si può intendere l'utilizzo intenzionale del senso dell'udito per sperimentare stimoli uditivi in particolare va indicato in questo caso l'utilizzo di facilitatori quindi vi è uno stimolo facilitante che ad esempio può essere un aiuto verbale quindi diamo allo studente un'indicazione verbale può essere anche un'indicazione gestuale quindi un gesto rispetto alla richiesta iniziale vi può essere una semplificazione della richiesta il modeling o shopping mi raccomando se non sapete bene queste se non conoscete bene questi facilitatori poi chiedetemi è ovvio che sto inserendo tanta tanti altri elementi però per rispondere bene alle vostre richieste poi inevitabilmente si vanno a toccare anche altri argomenti abbiamo detto per introdurre le griglie di osservazioni siamo partiti dalla classificazione internazionale della disabilità della salute richieste dall'organizzazione mondiale della sanità e abbiamo fatto degli esempi di griglie di osservazioni che ad esempio potrebbero essere usate anche in un piano didattico personalizzato ovviamente i facilitatori possono essere anche di tipo ambientale anche se il setting ambientale come facilitatore dovrebbe essere utilizzato sempre a mio avviso quindi io vi rimando poi alla eventualmente ve lo vi inserisco il link qui sotto relativo alle griglie dell'ICF perché se poi volete andare ad approfondire questo argomento potete sicuramente andare ad osservare meglio tutto quello che riguarda il mondo dell'ICF che ricordo brevemente dato che ci siamo si suddivide in due parti una parte relativa al funzionamento delle disabilità quindi vengono classificate le funzioni le strutture corporee le attività la partecipazione e da un'altra parte i fattori contestuali quindi i fattori ambientali i fattori personali e una domanda dato che questo può essere utile per la prova scritta però per la prova preselettiva una domanda che vi potrebbero fare che mi viene in mente che mi è venuto mi viene in mente adesso ogni quanto viene aggiornato l'ICF ogni quanto si aggiorna vediamo qualche poi chi deve aggiornarla allora ogni quanto si aggiorna ogni anno chi è che se ne occupa l'organizzazione mondiale della sanità chi se ne occupa a livello italiano perché ovviamente poi vi è una traduzione vi è il centro collaboratore italiano dell'OMS quindi chi se ne si occupa di aggiornarlo ok la traduzione scusate scrivo qui chi si occupa della traduzione italiana lo scrivo qui sotto tanto è leggibile ma soprattutto potete ascoltarmi se ne occupa il centro collaboratore italiano dell'OMS mi stanno sto cercando di farmi venire in mente qualche domanda relativa all'ICF ad esempio e cos'è l'ICFC è la versione specifica per la popolazione pediatrica significa essenzialmente l'ICF for children and the out c c e y stanno per queste due parole quindi io direi che va bene abbiamo fatto anche 4-5 domandine relative all'ICF siamo partiti dalla griglia di osservazione e ovviamente poi mi chiedete specificatamente queste indicazioni per quale concorso sono utili mi avviso sono utili per tutti i docenti poi in maniera specifica per il concorso ordinario e per il concorso TFA sostegno quindi scrivo qui concorso ordinario virgola concorso TFA sostegno adesso che siamo arrivati alla fine del video io ci tengo come al solito a ringraziare tutti coloro che sono sempre presenti che stanno arricchendo questi video con commenti con suggerimenti con richieste allora sicuramente un ringraziamento speciale va a Laura a Gretel che è sempre molto gentile gentilissimo professor Samani per cortesia può ripostarmi link Elisa che ci scrive grazie ottimi consigli e chiarezza di contenuti e Dersu Puletti grazie sono un po' confuso ma se chiedessero la rubrica di valutazione ne parleremo Gretel Marulli ci fa tante domande Antonello Lupi buongiorno Francesco non riesco a vedere il tuo video adesso l'ho reimpostato si dovrebbe vedere in particolare il video è una diretta live sull'intelligenza emotiva Coach sempre presente ormai da penso da diversi mesi grazie per i tuoi video fenomenali verissimo la vera competizione sta nell'aiutarsi non negli Hunger Games e ancora il professore grazie a infiniti di tutto Silvia splendida discussione su questo tema attualissimo Sara ciao Francesco sono prossimo al concorso straordinario eccetera eccetera Vincenzo Tag che ci ha chiesto diversi requisiti tra cui alcuni sono stati proprio risolti recentemente relativamente al backup del PECUP dello studente della scuola Valentina Grisetti ci ringrazia tantissimo Floriana Farano sempre presente ci augurava buona domenica Maria Grazia Viola da scuola siamo noi Giuseppina Morrone se non ho ringraziato personalmente tutti non rimaneteci male cerco sempre di rispondere a tutti i vostri commenti quindi qui sotto commentate scrivete scrivete quello che di cui potreste avere bisogno e ovviamente la risposta non tarderà a mancare con questo io vi auguro buona continuazione di giornata e buono studio per la scuola per la scuola per la scuola